Zombie Apocalypse Grazie Gianni Lucarella per essere iscritto al canale Pack dedicato a te ragazzi Se volete il pack dedicato fate come Gianni che si è iscritto al canale Mi raccomando attivate la campanella E seguitemi su Instagram No 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 apri 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 prima che fa la sentenza Dai you dovete iscrivervi Al canalo che avete il pack Dedicato vai ce l'andiamo comunque ad aprire Primo dei 4-5 Importanti mensili che avremo ad aprire Quindi Allora Mattè tu sei pronto? Mi sono prontissimo vai ah me lo sento Pronto te lo senti sei positivo Si si lo sento lo sento Ma lo sento non sta con le cuffie Ma tu sei scimarezza Ma io che bandiera dobbiamo vedere? Mi devo preparare per essere Uruguay Spagna Argentina Allora ci sta Argentina Argentina top Brasile top potrebbe essere top Attenzione a Brasile perché c'è anche Coutinho Per esempio che tra l'altro è anche lo stesso ruolo A me viene un infarto Suarez Uruguay Spagna De Gea Argentina No Cosimo non ti preoccupare Dopo apriamo i tuoi Si è dimenticato che eri tu il secondo Emilia Ah hai ragione Hai ragione Cosimo Hai ragione Hai ragione Hai ragione Dopo ci apriamo quelli di Cosimo Perdona mi ha detto leggendo Perché stavi con me in live Ragazzi 400 like Ci apriamo i pacchetti Di Crazy Brother Che ha fatto fuori classe 1 Sia settimanale Che mensile Spegni la tv No oggi Come volete far sentire male No 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 Apriamo 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 Niente che gioca in me Pakistan già bestemmiando Apriamo Vai Matteo Il tuo countdown Ragazzi Scriviti al canale Comparire sullo schermo Momente Apri il pacchetto Così gli estratto Ci sta dando pure Iscriviti veloce Vai Vado vai 3 2 1 Vai E' dato E' partito Prego mensile Voi vuoi Aditi E' stuore Non è stuore E' da grande giro E' stuore Che madre E' stuore E' stuore E' stuore Suarez 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 Andiamo così Col primo mensile L'aveva detto Dragon Grazie Dragon è sotto attenzione sotto attenzione ragazzi possono sta tutti tranne messi tutti tranne messi nei mari state che aghero si vanno i cittadini fa niente basta che ci sta che ne ragazzi è infarto sto pacchetto comunque raga forza lasciate like 400 ci avremmo altri pacchetti di cosimo settimana e mensile un voglio un danno fiato siamo 500 spettatori quindi voglio forza la gente mi insulta la gente mi manda le note dice tu non dici che vediamo vediamo si è aperto si è lopes lozano rume i pizzi young va bene sti fotte sega lozano va bene va benissimo ragazzi ragazzi ha trovato su ares va benissimo ma benissimo così c'è un culo dell'anima via 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 mannaggia la morte mannaggia Grazie.